Per la Teate Servizi l'ipotesi del fallimento si allontana. Arriva il via libera dal Tribunale di Chieti con il decreto che apre la procedura del concordato preventivo, in quanto non ricorrono ragioni di inammissibilità della domanda. Ora però si attende alla dunanza dei creditori. Il prossimo 13 luglio ci sarà la votazione del piano e la determinazione dei crediti dovuti a diversi soggetti. L'esito favorevole determinerà l'omologazione. L'ho rimarcato il primo cittadino Diego Ferrara, una notizia che ho accolto molto positivamente, ottima soprattutto per chi come me ci ha sempre creduto e ci ha messo la faccia. La partecipata del Comune entro il prossimo 2 maggio 2023 dovrà certificare l'avvenuto deposito della somma di circa 94 mila euro, pari al 20% delle spese per l'intera procedura. Il piano di salvataggio approvato in Consiglio Comunale che non ha avuto i voti del Polo Civico prevede il rientro dilazionato del debito accumulato negli anni. Una cifra non di poco conto, oltre 3 milioni di euro. La procedura dà l'opportunità alla società di continuare a operare nei prossimi 5 anni nella gestione della riscossione dei tributi. I parcheggi a pagamento e servizi cimiteriali torneranno nella diretta gestione del Comune. Questo è quanto prevede l'assunto principale del piano concordatario.